Siamo al 55 di Milano, una serata dal sapore internazionale, presentazione del calendario 2017 di New Model Today. Pacchio Arcella, un commento su questa serata? Una grande serata sicuramente dove i valori della bellezza, della moda sono emersi sicuramente, però una serata come sempre colorata da New Model Today, tutte le serate io direi sono lodevoli perché c'è veramente tanta qualità e oggi non è semplice selezionare delle figure che poi si avvicinano al mondo della moda per indossare poi le vesti di top model, quindi credo che è una serata riuscitissima, una presentazione eccezionale, ci godremo il 2017 con le ragazze di New Model Today. Benissimo, a proposito di selezioni con Martina Calzavacca, responsabile dei casting della provincia di Pavia, chiediamo quali saranno i prossimi appuntamenti. Sendo la responsabile della provincia di Pavia vi invito a iscrivervi, numerose, perché è un concorso veramente molto valido, che dà tantissime opportunità di lavoro, di visibilità e di conoscere la bellezza vera italiana. Abbiamo con noi anche Bobo Malachrida, responsabile agente di New Model Today a Regione Lombardia, chiediamo anche a lui un commento sulla serata e sul successo di questo calendario 2017. Ma il calendario è bellissimo, la serata mi sembra sia riuscitissima, questa sera è la prima presentazione ufficiale anche della collaborazione che si è aperta con Pavia, con la provincia di Pavia e con l'amiche Lella e Martina, e devo dire che un bel in bocca al lupo ci sta tutto. A presto, a presto! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.